L'Unione Montana-Valle Susa è uno dei primi enti locali della città metropolitana, del territorio della città metropolitana ad aderire alla carta di Budoia. Che cosa significa per voi questo impegno? Per noi è un momento significativo e fondamentale. L'abbiamo approvato subito in giunta, come ci è stato proposto. Adesso l'operazione è quella di estenderla a tutti i comuni dell'Unione affinché possa diventare un progetto sempre più condiviso e sempre più convinto da parte di tutto il territorio. Dal punto di vista pratico che cosa significherà per voi questa adesione? Ma noi abbiamo parecchie azioni in essere per cercare di mettere in sicurezza un territorio che è molto fragile e questi presupposti della carta di Budoia sono fondamentali per cercare di fare proprio massa critica e ragionare su questi temi.